Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza con la sola stensione del consigliere Zullino della Lega l'istituzione della Commissione Speciale Recovery Fund. La richiesta è stata avanzata dai consiglieri regionali del centro-sinistra, Polese, Braia, Pittella, Cifarelli e Terrotola e del Movimento 5 Stelle, Perrino, Leggeri e Carlucci. La composizione e la durata dell'organismo saranno stabilite con un successivo atto. Per il Vice Presidente del Consiglio, Mario Polese, il voto favorevole dell'Aula è un atto importante nel segno della condivisione e della responsabilità. Nella mediazione trovata in Consiglio, spiega Polese, si consente al Presidente della Terza Commissione, Quarto, di aggiungere la competenza speciale sul Recovery Fund alla sua commissione, che potrà aprirsi a confronto non solo con tutte le forze politiche presenti in Consiglio, d'intesa con i Presidenti delle altre commissioni di volta in volta competenti, ma anche e soprattutto al territorio e a tutti i mondi economici e sociali della nostra regione. Il Recovery Fund è un'occasione da non sprecare per la Basilicata e Chiosa Polese. Ci si gioca il futuro delle prossime generazioni. La responsabilità, pertanto, va condivisa perché non possiamo assolutamente commettere errori.